Qua ci sono almeno così solo a occhio dieci o quindici varietà di erba diversa, di lì praticamente c'è solo gramigna. Se prendi una manciata di là è fungo. Comunque è interessante vedere anche il colore a confronto. C'è una sfissia totale, vedi com'è tutto compatto. Qui si ha di sapone dalla lavatrice. Life and death. Tu sei un figlio di Vigna Iolo? Sì. Perché tu farai vino? Beh. Facciamo vino insieme in biologico, in biodinamica, assenza sulforosa, con i lieviti indigeni. La nostra forza è avere la sensibilità di rispettare il più possibile quello che la natura ci dà. Se dunco ravi il vino, se lo cambiavi, passava la doc, ma non era più espressione di quel terroire in quell'annata. Il Vigna Iolo moderno è sempre alto. Quando mangiamo un cibo che è uguale dalla Nigeria all'Islanda e poi dopo andiamo in farmacia e ci compriamo 70 kg di antidepressivi. mi piace che sia la terra a parlare. Noi facciamo dei vini che guardano al futuro, perché poi la prima nutrimento è la gioia di vivere. Che cos'è questo vino giallo? Oh signor, sarà andata male.